l'aggianto buona l'aggianto non so stavo io ma è l'aggianto che si non perdere la giunta io ho fatto facciamo a capo non perdere la città c'è i libri tempi la diglia lo sai? il mio di chi è? david sorella ci sono i libri dentro? no guarda ma questa vi a casa tu la tolta allora meglio vai vai vieni 1 a 0 1 a 0 a me a me come faccio i libri di schieno? oh certo però non ho un papo di pezzo eh si ma anche se è proprio c'è una mira si ah che è un papo di pezzo eh si ma anche se è proprio c'è una mira grazie